Dopo l'interrogazione del consigliere di minoranza dell'alternativa per Casale Domenico Crasà sui lavori a Ricciano, è arrivata la pronta risposta del sindaco Claudio Pizzi e dell'assessore ai lavori pubblici Gabriele Falcioni. Siamo particolarmente stupiti, spiegano i due, dalle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Crasà relativamente alla sua preoccupazione legata ai lavori nella frazione di Ricciano e alla sua ipotesi che queste opere non consentano il corretto svolgimento o addirittura proprio con l'annullamento della festa di Ricciano che si terrà dall'11 a 14 luglio prossimi. Il grande stupore deriva dal fatto che tali affermazioni sono assolutamente prive di fondamento. La festa non è mai stata e mai sarà in discussione. Abbiamo fatto una verifica con il direttore lavori e l'impresa esecutrice e l'effettiva ultimazione delle opere potrà avvenire prima dell'inizio della festa che effettivamente si svolge nella piazza dove i lavori sono già terminati e nella quale al momento sono presenti solo materiali di riporto degli scavi che nei prossimi giorni verranno smaltiti. I lavori ai quali si fa riferimento riguardano la regimazione delle acque meteoriche in via Canova ed in via Crebbia a Ricciano. Tali opere comportando la rottura del manto stradale inevitabilmente creano qualche disagio momentaneo ai residenti ma porteranno un indubbio giovamento alla popolazione risolvendo le problematiche che si presentavano in occasioni di periodi di maltempo. Siamo delle idee, continuano pizzi e falcioni, che valga la pena patire qualche giorno di fastidio a fronte poi della risoluzione definitiva del problema. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, come naturale e pacifico che sia, il Comune ha appositamente incaricato un tecnico specializzato affinché durante lo svolgimento dei lavori siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza per l'incomunità degli stessi, nonché della popolazione, in relazione agli aspetti legati alla fruizione degli spazi pubblici. Ramentiamo inoltre che solamente da sabato 15 giugno, e non dall'inizio dei lavori come il consigliere Crasà ha lasciato trasparire, il transito veicolare lungo il tratto finale di Via Canova per la lunghezza di circa 70 metri è stato interrotto a causa del cedimento di una parete di scavo provocata dalle forti piogge. L'ultimazione di questo scavo e quindi il ripristino dell'accessibilità lungo il tratto viario in questione potrà avvenire salvo imprevisti entro la fine del mese. In tutto questo periodo ovviamente il servizio di raccolta rifiuti è comunque garantito fino al limite dell'interruzione viaria e non si segnalano disagi da parte dei residenti. Non da ultimo vogliamo sottolineare come la precedente e l'attuale amministrazione abbiano impiegato 130.000 euro per interventi a Ricciano.